ciao a tutti oggi mostrerò come realizzare le mele caramellate è una ricetta che a me piace molto perché la acquisto questa mela quando c'è la festa di sant'agata una volta l'anno ingredienti che vi occorreranno saranno 5 mele rosse 100 grammi di zucchero mezza mezzo tubetto di colorante rosso in gel un pizzico di chiodi di garofano un cucchiaino e mezzo di cannella qualche goccina di vaniglia essenza 50 grammi di miele io utilizzerò bosco e campo dopo aver lavato le mele uniteli di bastoncini e infilzate le vostre mele in questa maniera così visto mettete tutti gli ingredienti in una pentola dei bordi alti aggiungete due cucchiai d'acqua appena assumerà una consistenza liquida potete immergere le mele così scolatele mettetele su carta da forno lasciatele asciugare completamente sulla carta forno ed eccoli pronti da gustare spero che questa video ricetta vi sia piaciuta io vi lascio alla prossima un bacio